La richiesta del Ministro per gli Affari Regionali Boccia di avere un Covid Hotel per ogni provincia si sta concretizzando anche in Veneto. Il Commissario Arcuri ha chiesto di accelerare i tempi e entro martedì le regioni devono riferire le loro esigenze. Da Fedder Alberghi arriva l'Ok a collaborare a patto che ci siano determinate condizioni. Il Covid Hotel non è un giocattolo a maneggiare così, è un posto dove vengono radunate 20, 30, 40, 70 persone positive. Allora, l'agente, gli operatori che assistono queste persone devono essere al minimo formati adeguatamente perché il nostro personale si rifiuta ovviamente, hanno ragione, di assistere nel senso di fare i letti e portarle a mangiare a gente che ha il Covid. Michielli pretende regole precise e chiare, in primis la presenza di personale specializzato. La mia posizione è ben conosciuta e ben nota alla regione Veneto. Loro sanno, voglio sedermi a tavolino con la sanità, noi collaboriamo però a condizione data, nel senso che vogliamo avere la tranquillità che gli albergatori che andranno a osticare, se vogliono il marchetto a Fedder Alberghi bisogna che ci sia un protocollo sanitario. Se invece vogliono prendersi in albergo, si arrangeranno se lo vanno da singolo albergatore. Intanto la mestre più comune oggi come oggi sono albergatori disperati, per cui lo trovano disperato che a qualunque condizione ospita. Intanto l'Ulstre Serenissima fa sapere che a seguito di un bando pubblico ha individuato la struttura per l'area veneziana. È a Mestre e possiede camere ampie con servizi igienici di alto livello e una piccola cucina. Alcune delle stanze ancora più ampie potranno accogliere più persone, ad esempio due coniugi che debbano trascorrere insieme il periodo dell'isolamento. La struttura svolgerà la funzione di Covid Hotel per tutto il territorio provinciale, compreso chi proviene dal Veneto orientale. Grazie a tutti.